Per la prima volta il Comune di Ortona sarà presente al Vinitaly, la più importante rassegna italiana dedicata al vino e non poteva essere diversamente, oserei dire, visto che Ortona è un po' l'emblema del vino abruzzese. Ne parliamo anche con l'assessore comunale alle politiche agricole Giannicola Di Carlo, che è stato tra i curatori di questa iniziativa. Non potevamo esimerci del condividere l'evento della presentazione ufficiale Ortona Doc quest'anno e insieme all'assessore Lea Radico abbiamo voluto valorizzare la presenza del Comune di Ortona all'interno del Vinitaly di Verona che raccoglie 140.000 visitatori, 100 paesi da tutto il mondo, una vetrina troppo importante per Ortona, per un Comune che ha delle potenzialità e 2.500 anni di storia nel vino e 2.500 anni di storia di cultura del territorio e delle produzioni agricole. Non a caso ci sono 2.000 famiglie di vitivincoltori in questo Comune, abbiamo, ho qui la nota, 2.700 ettari di vigneti, 16.500.000 bottiglie prodotte tra Doc e IGP, 27.000 tonnellati di CO2 fissate dalle viti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel nostro territorio abbiamo un'economia che è quella legata all'agricoltura, che attraverso la coltivazione delle viti riusciamo ad abbattere la CO2 presente sul territorio. Un elemento non di poco conto che dà forza ancora più a valorizzare questa attività. L'assessore agli eventi del Comune di Ortona, Lea Radico, ha invece curato l'allestimento dello stand, un po' l'organizzazione generale per quanto riguarda il Comune di Ortona all'interno del Vinitaly. Sì, io ho pensato, ho aiutato l'assessore Giannicola Di Carlo per l'organizzazione. Mi sono occupata dell'allestimento e sarà un allestimento semplice su 10 metri quadrati di stand, quindi comunque una piccola ma rilevante presenza all'interno della fiera e con un allestimento molto neutro, con fondamentale impronta e importanza alla città di Ortona e al vino che porteremo, l'Ortona Doc 70, il vino del consorzio delle cantine di Ortona. Con il Comune di Ortona parteciperà anche il Comitato per il settantesimo della battaglia che ha contribuito alla creazione di questo vino 70, anche con la gara per l'assegnazione dell'etichetta. Il premio, tra l'altro, sarà dato venerdì mattina alle 9 presso il Teatro Tosti. È un'esperienza sicuramente nuova e sarà indimenticabile, in quanto Ortona, come prima volta al Vinitaly, speriamo che ce ne siano tantissime altre perché abbiamo assolutamente bisogno e necessità di valorizzare il territorio in quanto in questo momento un po' di crisi dobbiamo aggrapparci ai nostri punti di forza che tra l'altro sono cose da non sottovalutare perché noi siamo davvero forti sotto il punto di vista enologico.